Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, è il continuo rispetto al video scorso, se non l'avete visto andatelo subito a vedere, riguardo l'Atalanta e quindi volevo riprendere il discorso parlando di un'altra cosa, vi ho spiegato nel discorso dell'Atalanta della questione giovani di come in Italia stiamo sfruttando molto meglio i giovani rispetto a qualche anno fa adesso metto un pochino a posto la telecamera, ecco fatto molto meglio rispetto a qualche tempo fa, però c'è una squadra in particolare che sinceramente non riesco a capire che cosa c'ha in testa maggiormente col suo allenatore che io stimo davvero tanto, cioè il Napoli di Sarri allora per chi non lo sapesse io tifo Parma ovviamente, però simpatizzo ovviamente in Serie A in questo momento per il Napoli e un pochino anche per il Torino ovviamente perché il Torino è una squadra che mi sta simpatica per il Sassuolo vabbè, però tra tutte quante preferisco ovviamente tifo, tra virgolette, comunque simpatizzo per il Napoli ovviamente perché essendo napoletano io tifo Napoli che cosa succede però? il Napoli ha ovviamente una squadra secondo me veramente forte a Milik là davanti purtroppo si è infortunato e a Gabbiadini ha 94 come Milik fortissimo, ha un 93, ha un Insigne che è un 91 se non vado errato un 91, un 92, comunque è un giovanissimo anche lui per cui dei giovani ce li ha, sta puntando su Rog, su Zielinski quindi in realtà il Napoli sta puntando sui giovani ma sta puntando sui suoi giovani dal suo settore giovanile? da quanto tempo è che il Napoli a parte Insigne, che poi in realtà l'ha mandato in prestito non fa debutare un giocatore giovane? da quanto tempo è che non vedete un giocatore uscito dal Napoli? ricordo, levate Insigne, che gioca a livello professionista in Serie A? cioè da tantissimo tempo, che cosa sta facendo il Napoli con il suo settore giovanile? ok, che ha avuto dei grossi problemi per via del fallimento però ormai quanti anni sono che è in Serie A? dal 2007 se non vado errato, giusto? e ormai sono 8-9 anni, cioè si dovrebbe iniziare a vedere qualcosina dal suo ritorno in Serie A quindi il suo settore giovanile è tornato secondo me ai livelli ottimi cioè a livello professionista del Napoli penso che abbia un grande settore giovanile ma ora dove vanno a finire i giovani del Napoli? ovviamente se non li fate debuttare maggiormente adesso che c'è Milik che si è rotto, Gabbiadini non va c'è un giovane nella primavera che si chiama Negro e dicono che sia forte, perché non lo provano? perché Sarri non lo mette dentro? almeno non so, fa giocare 10 minuti ma almeno proviamoli questi giovani no, preferisce mettere Mertens o Caillon come falso Nueve non ha veramente senso non ha veramente senso ragazzi una cosa simile cioè provaci provaci con questi giovani proviamoci con questi giovani come ho detto prima, guardate la Juventus che ha messo dentro questo giovane 2000 ci ha provato, guardate il Milan guardiamo l'Atalanta appunto che ho fatto esempio nello scorso video bisogna guardare queste cose perché il Napoli non ci prova? vuole bruciarlo? non esiste più questa storia di bruciare un giocatore ragazzi i giocatori si bruciano per altro modo per altra maniera se non hanno la testa se non hanno la testa vengono bruciati i giocatori proviamo, lanciamo di nuovo i giovani ragazzi e il Napoli secondo me proprio adesso doveva sfruttare questa cosa perché sinceramente io non riesco a capire il Napoli col settore giovanile cosa sta combinando lasciatemi un commento ragazzi qui sotto ditemi che cosa ne pensate a riguardo lasciate ovviamente un mi piace se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale ovviamente se non l'avete ancora fatto sulle solite cose che si dicono grazie mille per aver visto questo video un saluto ciao da Papyrus grazie a tutti